Ha preso carta e penna il presidente della regione toscana Eugenio Gianni per scrivere al viceministro per lo sviluppo economico Alessandra Todde sul caso Beckert, visto che l'azienda di Figline Valdarno è stata esclusa tra le prossime convocazioni del ministero. Un'omissione pesante considerando che la cassa integrazione per i 120 lavoratori ancora in bilico scadrà il prossimo 4 maggio e che l'azienda ha già dichiarato da tempo di non voler provvedere alla proroga degli ammortizzatori. Le ipotesi complesse per la reindustrializzazione della fabbrica sono due, Gindal e Trafilerie Meridionali, ma il tempo stringe e lo stallo a Piombino non incoraggia. Così il governatore ha rivolto al ministro dello sviluppo economico Giorgetti e allo stesso viceministro Todde la richiesta di riconvocazione urgente del tavolo di crisi nazionale, evidenziando il punto drammatico in cui oggi è arrivata l'avvertenza. Un'analoga richiesta era stata avanzata da due parlamentari toscani di Forza Italia, Stefano Mugnai e Maurizio Dettori, che avevano inviato una lettera a Giorgetti. Forse dovevamo occupare l'autostrada anche noi, ha affermato la CISL, riferendosi al presidio dei ristoratori, lamentando una svolta negativa negli ultimi mesi. Con il governo Draghi è mancata assolutamente ogni interlocuzione, dicono i sindacati.